Io devo lavorare, devo fare l'amore, ho il diritto di essere felice! Te non sei solo. Forse c'è un destino, un disegno. Tutto ci portava qui. Conoscevo la vittima. Hai visto qualcosa che non doveva vedere? Per questo l'hanno ucciso. C'è qualcuno che ti ha detto di dirmi così? Tu devi continuare a prendere la pensione di tua nonna. Non si può. Eh si può invece. A cosa devo il piacere? Una piccola ispezione fiscale. Oh che noccio! Sei Andrea, sì. Sofì. Non so come sia successo. Dovrebbe solo trasmettere i pensieri. Adesso sembra che abbia scambiato proprio tutta la mente. Papi, ho conosciuto un ragazzo. Alessio? Dov'è casa di Alessio? Basta oggi. Dove scusa? No! E qua che c'è di bello. L'hanno arrestato in piena nuca io. Non so se fanno ritorno. Devi dirci la verità e basta. È da 15 anni che la verità è sta roba. Questa storia è diventata troppo pericolosa. Ne troverà sicuramente una migliore. Posso benissimo andare avanti da sola. La buciarda! Ah!